ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video sono in vacanza mi trovo a verona intorno al lago di garda un po di supo un po di bici un po di discesa ma oggi sto comunque lavorando infatti non sono solo sono venuto a trovare un mio caro amico un altro matteo che forse qualcuno di voi conosce matteo pasquali di reckless bike ciao matteo a tutti come stai tutto bene tutto bene allora perché siamo qui matte semplicemente perché oggi vogliamo dare un volto a reckless bike mi sentite parlare spesso di matteo del suo lavoro del suo e commerce e di tutte quante le attività che organizza però di fatto non c'erano non ci hanno mai visto in camera insieme quindi ho colto st'occasione abbiamo lavorato anche in vacanza e allora matte oggi diciamo il piano è farti qualche domanda perché comunque tanti miei follower mi chiedono primo come è fatto il tuo ecommerce dove ti trovi come si fa a comprare ma anche che cosa vendi e soprattutto se ci si può affidare c'è una domanda che mi fa praticamente chiunque ora ragazzi come si fa a non fidarsi di uno così cioè è buonissimo sono arrivato da dieci minuti ma ho già offerto mezzo mondo quindi per tornare a noi prima domanda semplice semplice matteo da quant'è che fai questo lavoro ormai un bel po' ha iniziato nel 2011 seguendo principalmente il back trial e poi ampliando un po' quello che è anche lo street trial quindi seguendo al 100% tutto il mondo trial quindi non è una cosa che ti si è inventato ieri reckless bike ha aperto dalla bellezza di undici anni ad oggi è sì un bel po' di complimenti c'è una battuta sui capelli ma me la tengo magari poi questo lo tagliamo comunque 11 anni quindi ragazzi risposta all'ultima domanda che è la più importante vi potete fidare sì perché matteo sono 11 anni che fa questo lavoro sono 11 anni che vende trial e street trial in tutta italia trovate il suo e commerce dove potete vedere tutti quanti i prodotti infatti matteo io ho anticipato ma che prodotti vendi fondamentalmente tutto tutto quello che riguarda il trial quindi sia bici complete telai forcelle ricambi abbigliamento protezioni tutto quanto per tutti i livelli quindi se una persona volesse iniziare a praticare trial e volesse comprare una bicicletta basta che ti scrive parla direttamente con te di persona e tu gli consigli che modello la fascia di prezzo perché giustamente sappiamo che è un mondo molto ampio con costi particolari quando si fanno acquisti sono acquisti come ho già detto in altri miei video ben scelti tu puoi dare una mano a scegliere il modello adatto per la necessità del cliente e questo è fondamentale ragazzi è una cosa che soltanto andando online e cercando digitando street o trial non potete fare perché come avete capito dai miei video è molto difficile trovare dei prodotti validi e adatti a voi una persona che vi insegna che vi spiega come fare è forse diciamo il primo servizio e il più importante di tutti quindi ecco questa è un'altra domanda che però tante persone potrebbero porsi io compro una bicicletta da reckless bike mi arriva la bici è comunque un negozio online o qualche problema alla bicicletta di regolazione di setup o un pezzo rotto tu che cosa fai matta io ti scrivo nessun problema io vi seguirò dall'acquisto a tutta l'assistenza quindi qualsiasi problema può essere sulla bici vi serve un consiglio non sapete come eseguire una determinata tecnica ci sentiamo sono sempre disponibile su email telefono whatsapp tutto quanto quindi non siete soli non comprate la bici e vi accanna come si dice in roma non so se lo dite anche da ste parti no qui no mattei non vi accanna i mattei non vi lasciano soli comunque io sono ovviamente la parte idiota del video come avete capito ma a riguardo di appunto garanzia e follow up del cliente mi viene anche un'altra domanda ovvero cioè io devo prendere la macchina e arrivare fino a verona assolutamente no no perché l'ho appena fatto di sto periodo con la benzina martia costa una barca no 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 per niente la bici vi arriverà comodamente a casa è semplicemente da montare nelle parti semplici quindi di solito i pedali il manubrio la ruota anteriore cose semplici possono fare tutti in ogni caso per qualsiasi problema mi contattate e vi saprò dire tutto ovviamente lui mi è già capitato comunque anche a me di passare per la garanzia di matteo le spedizioni quando comprate la bicicletta è inclusa quando c'è bisogno ovviamente di appunto di mandare o ricevere sono velocissime cioè vi accordate con matte vi dà punto di ritiro eccetera eccetera date l'indirizzo e in qualche giorno avete tutto perché essendo un dealer italiano le spedizioni sono super efficienti non perdete niente è molto complicato avere problemi io sinceramente ormai sono anni che ordino da te non ho mai avuto nessun problema quindi è un altro enorme punto di vantaggio poi c'è un'altra cosa matte che a me ne parlavamo prima quando eravamo soli ora mi sta guarda strano perché non sa cosa sto per chiedere tu vendi ovviamente alcuni brand principalmente non li stiamo qua a dire li trovate sul sito come ho già detto però non c'è solo quello che vediamo sul sito tra virgolette nel senso tu lavori anche con produzione ad esempio puoi costruire le ruote mi spiego meglio puoi ad esempio fare dei build per ruote e telai biciclette freni parti persi in particolare quindi non ti occupi solo della vendita in breve giusto di tutta l'assistenza quindi qualsiasi necessità avviate qui abbiamo qualche ruota ad esempio che sono per il nostro caro leonardo leo se trovi le ruote leonardo mazzella ovviamente link sempre da qualche parte se trovi le ruote graffiate colpa mia che lo spostate però al di là di ciò se voi volete una vostra bicicletta top build come la mia ad esempio potete contattare matteo prendere separatamente le parti e farvi montare la bicicletta farvi raggiare le ruote diciamo fare i vostri pezzi personalizzati e custom quindi questo è anche free rider insomma già di un certo livello non solo per chi sta iniziando adesso un'altra cosa su cui reckless bike lavora da parecchio tempo è la crescita dello sport che è un punto che come sapete a me mi scalda proprio l'animo reckless bike community è una realtà nuova fresca e già molto ricca di persone creata appunto da matte se volete potete scrivergli chiedere di essere aggiunti a questa chat ovviamente su whatsapp dove parliamo di tutto di tutto dalla cucina come si lava per terra ovviamente no di tutto quello che riguarda il trial street trial trial competizioni tecnica anziché video semplicemente insomma tutto ciò che riguarda il mondo della bici se volete accrescere la vostra conoscenza e le vostre conoscenze quindi rider fisici realisti dovete assolutamente farvi aggiungere scriveteci che vi aggiungiamo certo ovviamente a parte il sito reckless bike punto it trovate matteo e quindi il suo shop su tutti i social facebook e instagram soprattutto dove è molto attivo dove pubblica diverse attività anzi tenete un occhio perché abbiamo parlato di altri lavori da fare e quindi insomma sapete dove trovarlo che cosa mi manca dici vuoi aggiungere qualcosa matte a ecco ce l'ho io ti anticipo ovvio quello che pensavi anche tu i mattei hanno anche una mente al veare matteo segue ovviamente anche tutti i campionati di trial nazionali quindi potete andare a cercare i suoi stand in tutte le gare in italia pubblica sulla sua pagina ogni anno tutto il calendario degli eventi quindi se avete dei dubbi su dove lo potete trovare e in che date trovate tutto lì anche soltanto se siete curiosi di vedere una gara di trial o provare una bicicletta lo trovate allo stand con le bici insomma niente di meglio ecco se solo non sei venuto a rieti perché tra poco è uscito il video di rieti lì non ci sei venuto l'anno prossimo ti tocca far strada pure a te vieni in vacanza farò così vieni in vacanza e lavori ti porto in giro per roma bene matt allora abbiamo detto tutto io intanto ti saluto grazie tutto una figura di un grosso piacere riportiamo tutta quanta la roba a posto ci vediamo nel prossimo video ragazzi un saluto bella aspetta che perché me la venuta me la so persa ma che cazzo devo dire questo va benissimo per il materiale di coda quello che fa a tagliare capito poi stefano il montatore sicuramente lo usa sempre materiale per dopo quindi matte io credo che abbiamo detto quasi tutto ovviamente inutile starlo a dire a parte il sito www.recklesbike.it però è convulgente ragazzi sta risata è fantastica l'abbiamo già detto questa è sta guarda devo guardar pure io ciao 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 ciao